Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rotamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita auto vetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. Prosegue senza sosta l'ondata di caldo che sta interessando non soltanto il nostro paese ma un po' tutta Europa. Record storico per esempio a Londra dove si sono raggiunti i 40 gradi e in alcuni aeroporti si è addirittura sciolto l'asfalto della pista. Guardando al nostro territorio non va certo meglio contesto ugualmente bollente con lo stato di allarme climatico lanciato dalla regione. Vediamo dunque il dettaglio di giovedì 21 luglio. Sul Veneto bel tempo il cielo sarà sereno. Sulle Dolomiti probabili rovesci pomeridiani non si esclude anche qualche isolata precipitazione fin verso le zone pedemontane. Temperature in aumento minime tra i 19 e i 22 gradi massime invece comprese tra i 31 e i 37 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia anche qui sarà soleggiato con cielo limpido venti a regime di brezza anche sostenuti sulla costa al pomeriggio. Temperature minime sui 22 e 25 gradi massime sui 34 e 36 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige sarà soleggiato con addensamenti nel corso del pomeriggio e locali acquazzoni sulle alpi di confine. Temperature minime intorno ai 21 e 22 gradi massime sui 37 e 38 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione. Arrivederci.